attenzione attenzione vi invitiamo all'iscrizione dei corsi gratuiti del castellabate film festival dal 19 al 23 luglio 2021 pittura magia teatro yoga country dance spettacolo per clown cinema scegli il tuo corso e chiamaci 320 49 45 219 oppure 320 18 50 691 dal 19 al 23 luglio al castellabate film festival i corsi gratuiti per bambini iscriviti subito seguici su facebook e instagram oppure visita il sito www.giannipetrizzo.com slash castellabate film festival